Stiamo cercando di curarlo. Per fortuna non era una pipera velenosa, perché se fosse stata una pipera velenosa ci sarebbe rimasto secco. Morso da un serpente ma lasciato così, senza nessuna cura, anzi minacciato se avesse lasciato il campo dove lavorava. E forse l'aspetto più crudele di una vicenda di sfruttamento e caporalato avvenuta fino all'aprile scorso in diverse aziende agricole travigiane. Protagonisti 57 indiani arrivati in Italia con il decreto flussi, chiamati da aziende fittizi tra Caserta e Napoli, con legami in India, dove ai malcapitati era stato promesso un futuro di lavoro regolare, dietro pagamento anche di 10.000 euro. Una volta atterrati però hanno trovato solo un futuro di clandestinità che li ha portati dritti nel giro del lavoro illegale e del caporalato pubblicizzato attraverso i social come nel caso di questo pakistano. Annunciava la possibilità di lavoro, annunciava la possibilità di avere un permesso di soggiorno in maniera veloce, quindi di regolarizzarsi, di avere una casa e quindi di cominciare a far guadagnare questi poveri disgraziati. 57 quelli finiti dentro questa casa di Negrisia di Ponte di Piave, dove venivano prelevati alle 5 del mattino per essere scaricati sui campi di radicchio tra le vigne di Prosecco e dove lavoravano per 5 euro a cassone riempito fino alle 10 di sera, quando i gregari del caporale venivano a prenderli per scaricarli nuovamente davanti alla casa di Negrisia, ma anche su quest'altro casorale in mezzo alla campagna di Oderzo. Poco o niente da mangiare, niente acqua calda, niente luce, una vita quasi da bestie, scoperta quasi per caso dalla CGL, quando alcuni di loro sono finiti a Latina ed hanno incontrato la stessa sinacalista di Statma Singh, il bracciante morto per la putazione di un braccio mentre lavorava in nero. Una volta avuto il contatto con loro, naturalmente parlando lei, Panjabi, ci ha segnalato il caso. Sparito il caporale e i gregari, con un bottino stimato intorno ai 350 mila euro di fatture pagate dalle aziende agricole trevigiane. Dei 57 molti si sono dispersi nel territorio. Ma nelle ultime settimane siamo stati contattati da Pordenone, Firenze, da Vicenza e da altre zone d'Italia perché questi lavoratori vogliono avere un contatto con noi per poter denunciare anche a loro. Testimonianze che serviranno alla magistratura per individuare e denunciare le aziende che hanno utilizzato illegalmente questi indiani a seguito dell'esposto presentato dalla CGL. Sindacato che chiede giustizia per questi lavoratori truffati e sfruttati in un territorio che paradossalmente ha bisogno di loro, ma regolarizzati. La Bossi Fini non consente il rilascio di permessi di soggiorno se non stai lavorando, ma a volte si crea il cortocircuito che vediamo e servirebbe un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro.